Si è conclusa la non aggiornata dell'Australian Open 2022 e abbiamo i nomi delle prime due semifinaliste che sono Ash Barty e Madison Keys. Le due partite di oggi sono state abbastanza nette, soprattutto per due motivi diversi. Nella nottata italiana Madison Keys ha battuto 6-3-6-2 Barbara Krejcikova, numero 4 del mondo, in una partita però dove ha pesato ancora una volta il caldo australiano. Non è stata ai livelli della partita tra Alep e Cornet dove entrambe erano morte fisicamente dopo 45 minuti e hanno tirato avanti per due ore e mezza in qualche modo, più o meno. Oggi però Krejcikova ha sofferto veramente tanto, ha avuto un colpo di calore importante dal 3-2 per Keys nel primo set fino al 5-2 e chiamato il medico in campo si è fatta misurare la pressione, l'hanno provata anche la febbre, aveva una borsa del ghiaccio sulla testa, sulle spalle, sulle guance. La partita lì sostanzialmente è finita, avevano cominciato bene, c'erano presupposti per una partita molto combattuta perché al contrario di Badosa Krejcikova stava usando molto bene le varie traiettorie di cui disponeva e quindi Keys era più in affanno nel trovare i punti. Le tante risposte vincenti viste contro la Spagnolo oggi non ci sono praticamente state e nei primi sei game ci sono state sei palle break ciascuna con diversi turni di battuta molto lottati finché Keys sul 3-2 in suo favore è riuscita in una difesa in allungo di dritto con uno slice che ha pizzicato il nastro, ha mandato fuori tempo Krejcikova, ha fatto il break, è salita 5-2 e lì sostanzialmente la partita è finita perché Keys ha vinto il primo, facile, nel secondo è andato avanti subito un doppio break Krejcikova era praticamente ferma, immobile, ha fatto due game ma insomma la questione lì era più vedere se Keys sarebbe riuscito a portarla a casa e non c'erano troppi dubbi quando poteva colpire con un avversario che non si muoveva e quindi Keys affronterà la numero uno del mondo, Barty, che invece ha fatto pura accademia contro Jessica Pegula numero 21 del seeding, una partita finita 6-2, 6-0, una partita dominata se non in una piccola parte a inizio match quando aveva già un break di vantaggio, ma sul 2-1 ha mancato un dritto a campo aperto e si è un attimo incartata, non l'entrava la prima, continuava il dritto a essere molto altalenante ha sbagliato il lancio un paio di volte, però sono stati 2-3 game alla fine è riuscito a trovare il doppio break per il 5-2 e da lì ha volato volato in una maniera anche nel secondo set, soprattutto facendo dei punti di pura classe giocando col proprio rovescio in slice, tra lob, soluzioni corte, soluzioni lunghe mille tagli diversi, il punto del doppio break per il 3-0 soprattutto ha giocato 8 colpi 8 slice di rovescio con diverse variazioni di effetto, forse era anche l'avversaria da un certo punto di vista che non poteva concretamente metterle in affanno se non c'era un calo nel suo livello e vediamo adesso il semifinale, è abbastanza equilibrata, Barty però ha già affrontato giocatrici così aggressive come Keys e le ha gestite piuttosto bene Camilla Giorgi e Amanda Nisimova e quindi da vedere se l'Australia riuscirà ad avere la prima finalista nel torneo di singolare femminile dal 1980 quando Wendy Turnbull venne sconfitta da Hannah Mandlikova per quanto riguarda invece gli altri quarti di finale si giocheranno entrambe nella nottata italiana a partire dall'una del mattino in Italia ci sarà Daniel Collins contro Alise Cornet e a seguire Iga Spiontek contro Kaya Canepi partite che sono dovute essere messe in programma a inizio giornata perché non ci sarà il giorno di riposo per chi vincerà e giovedì anche se quest'anno hanno cambiato e le partite saranno fatte di sera le due semifinali saranno entrambe giocate appunto giovedì e quelle che giocheranno mercoledì domani non avranno il giorno di riposo quindi per permettere maggior distacco tra i quarti di finale e le semifinale le hanno programmati alle 11 e più o meno intorno all'una ora di Melbourne e quindi per la prossima Grazie a tutti.